10 miliardi per la crescita delle imprese, con un focus sulle più piccole e sul terzo settore. Unicredit lancia la terza edizione del piano Unicredit per l'Italia, un pacchetto di soluzioni finanziarie, assicurative e di consulenza per aiutare in modo particolare le piccole e medie imprese italiane a crescere, affrontare la transizione e diventare competitive. Il piano prevede che il 40% delle risorse sia destinato al mezzogiorno. Annunciamo oggi 10 miliardi Unicredit per l'Italia. Dopo gli 8 e 10 miliardi da due anni passati, quest'anno i 10 miliardi sono interamente dedicati alle piccole e medie imprese. Quello che vogliamo fare è un percorso di crescita inclusivo. Inclusivo vuol dire che vogliamo coinvolgere tutti i sottosegmenti di clienti che serviamo sulle piccole e medie imprese. Per cui abbiamo deciso di destinare un plafond di un miliardo alle imprese più piccole, sotto i 10 addetti, mezzo miliardo alle imprese del terzo settore che da quest'anno possono anche agevolare delle garanzie statali. Un miliardo per l'agricoltura e un miliardo per il turismo, che sono due settori che devono affrontare importanti piani di investimento per il futuro. E altri 6 miliardi e mezzo per i settori core del Made in Italy. E la cosa più importante è che abbiamo deciso di destinare il 40% dell'intero plafond al mezzogiorno perché riteniamo che la crescita del sud sia un elemento cruciale per la crescita anche di tutto il paese. Unicredit per l'Italia è il contenitore di Unicredit che da tre anni inserisce iniziative specifiche destinate a particolari segmenti della popolazione italiana. In questo caso ci siamo dedicati attraverso l'utilizzo delle garanzie statali e il nuovo freno di garanzie statali alle micro imprese. In Italia sono 4 milioni e abbiamo destinato particolari finanziamenti supportati da garanzie statali, microcredito e microfinanziamenti. Dopodiché sempre la novità del nuovo freno di garanzie statali è quella dedicata al terzo settore. Che cos'è il terzo settore? Due numeri. In Italia rappresenta circa 360.000 associazioni e 4.600.000 volontari. Pensiamo al terzo settore come un abilitatore dello sviluppo. economico e inclusivo di alcune fasce della popolazione che altrimenti non troverebbero supporto, soprattutto in alcune aree d'Italia. E 40% dei 10 miliardi all'interno di Unicredit per l'Italia destinati al Sud, anche qui attraverso l'utilizzo di particolari incentivi. Cito una per tutti, la Resto al Sud, che è dedicata a giovani fino a 55 anni per lo sviluppo di attività o per la creazione e lo sviluppo di attività e che prevede il riconoscimento a fondo perduto fino al 50% dell'investimento.